Attacco celestiale guarda. Ah e lo clicchi tu proprio. Sì allora lotta con boss attacco celestiale L'abbiamo distrutto è stato il momento più entusiasmante della mia vita E ragazzi come va? Io sono Feriniki. E io sono Steph e che si gioca in matta? App Titan. È un'app per cellulare che ci avete consigliato in tantissimi nei commenti perché è molto molto simile a Portal Heroes ovvero la mappa che abbiamo giocato qualche giorno fa su Roblox ma sembra molto 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 più carina questa. Esattamente visto che vi è piaciuta quella mappa abbiamo capito che vi piacciono questi stili giochi ci avete consigliato in tanti questa mappa e abbiamo detto dai proviamo a fare un video su questa perché comunque ragazzi la mappa di Roblox diciamo che non aveva troppe cose. Da fare risultava un po' ripetitiva aveva poca presentazione rispetto a quest'app che è decisamente fatta meglio. Si parte subito mettendo il nostro nome vabbè sono ovviamente Steph il magnifico in questi giochi sai com'è non vorrei dire usa questo nome e adesso dobbiamo combattere. Ah già i mostri sono più bellini perché guarda che figata questa specie di ragno gigantesco. Vabbè è totalmente diversa la grafica è molto più. Sei pronta? Mi vuoi vedere combattere con la spada? Sì vai 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 è velocissima è velocissima. Si ti devi spaccare il lito quello è rimasto uguale però è velocissimo combattere fighissimo. In basso se vedi abbiamo il nostro danno attuale ovvero 6 secondo me al secondo al minuto non lo so. No al secondo. Al secondo ci dice invece quanto facciamo per singolo attacco ovvero 1. in alto invece qua abbiamo la nostra monetina quindi è molto bellina l'interfaccia pulita facile da capire. Ovviamente ogni 10 anche qua abbiamo dei boss. Possiamo potenziarci per prima volta il danno e passiamo da un danno a due danni. Ok 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 quindi livello 2 danni aumentati anche se pur di pochissimo però iniziamo a migliorare il nostro passaggio. Ma scusa ma scusa ma guarda quanto sono forti adesso. Guarda come spacco la faccia tutto. Fortissimo eh. Un robotone gigantesco. Ma l'hai distrutto. Eh sì. Siamo fortissimi. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Adesso siamo arrivati al secondo livello di nuovo 10 mostri e dopo di che boss ovviamente si inizia semplice dopo di che iniziano. Assolutamente anche su Roblox iniziavi con mob molto molto semplici poi il difficile si fa man mano che vai avanti. Comunque in questo gioco una cosa fantastica che c'è è che si può giocare in due quindi tra un pochettino inviterò in parti Ferinichi e potrà combattere al mio fianco questi brutti mostri così faremo ancora più danno. Io li vengo fermo a guardare mi prendo i soldi mi prendo l'exper e lascio tutto il lavoro sporca a te. Ma scusa. Eh vabbè da più semplice. No no. È più semplice. Devi picchiare insieme a me. Non lo so dipende se ho voglia. Capito. Dipende. Al posto del nuoto sincronizzato noi facciamo spada sincronizzata. Era terribile. Un nuovo sport potrebbe entrare nelle Olimpiadi. Esatto. E i consolini ci fanno i voti con i cartelloni. In base a quanto siamo sincronizzati. Va bene. O forse uno non lo so. Magari siamo un po' sincronizzati. Saremo bravissimi. Saremo bravissimi. E non vinciamo non lo so. C'è bisogno di aumentarci un pochettino perché non stiamo facendo molto danno. Giustamente giustamente. Allora passiamo a tre. Livello tre. A quattro. A cinque. A cinque. Addirittura a sei. Per colpo. Anzi no. Guarda. È otto. Quindi un pochettino stavamo saltando. Guarda adesso. Sei pronta? Sì. Superboss. È arrivato uno di quei momenti. Possiamo prendere il nostro Takeda. Perfetto. Perfetto. Lo voglio vedere. Dai Takeda. Aiutaci. Guarda. 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 Che fa? Lancia. Cosa sto lanciando? Coriandoli. È notato che è chiaramente Hulk. Sì ma non ce la faccia. Ha proprio i pancelloni dello stesso colore. Non ce la fai vero? No 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 no. Io lo so cosa ci vuole qua. Che cosa? C'è bisogno di un nuovo eroe potentissimo. Sai come si chiama? Ahah. Ferinichi. Sì. Vero? Sì 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 sì. Siamo d'accordo che... Assolutamente hai bisogno di questa cosa. Venga venga venga. Prendo il telefono e mi unisco assolutamente. Siamo in due. Picchia 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 picchia. Vado. Fai vedere come picchi. Qua ci vuole un po'. Ma non mi muovo. Ecco 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 ecco. Ti stai muovendo. Siamo pronti? Sì. Metto il boss? Vai. Guardaci. 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 Veloci. Veloci. Facchali la faccia. Mi fa già male la mano te lo dico. Dai che ce la possiamo fare? Ce la possiamo fare? Non ne sono sicura ma ce la possiamo. 800 di vita. 800 di vita. Sì sì sì. Sì sì sì. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Dai. Che poi tu fai 0.8 a botta. Sei totalmente inutile. Perché? Non vorrei dire. Non lo so. Non sono così debole nel mio account. Non so ma che devo dire. Yeah. Foresta pluviale. Eh guarda bella la foresta. Il tuo sta ancora picchiando. Allora ho notato che c'è leggermente un po' di lag. Io ad esempio. Inizia a picchiare dopo un po'. L'ho notato anche io. Esatto. E va anche più lento di quello che premi. Quindi non sono lenta io ma è il gioco che un po' ha della lag. Sì sì. Vabbè. Bene va bene. Scusa io sono fortissima. Cioè vuoi mettere? Sono davvero fortissima. Vai. Non lo so. Non lo so. Comunque siamo in una nuova zona. Quindi nuovi mostri da ammazzare. E sembrerebbe che inizino a pagare anche un bel po' di soldi in più. Quindi andiamo un po' avanti. E iniziamo a potenziarci come si deve. Perché voglio almeno il secondo aiutante. Dato che Ferinichi si è rivelata un pochettino inutile. Ma sono perfette. Cioè non mi puoi dire queste cose. Sono stata utilissima. Senza di me non saresti riuscito a fare il boss. Scusa. Eh non lo so. Non lo so. No no. È andato di fatto. Cos'è questa? Non ce l'hai fatta. Guarda. L'hai visto? Sì è una fatina. Una fatina che se clicchi ti fa cadere dei soldi in più. Oh grazie fatina. Gentilissima. Grazie. L'ho vista lì che isolanza. Ma che è? I soldi sono sempre ben accetti. Noi non ci lamentiamo. Speravo in una nuova spada però. No no no. Cioè soldi gratis. Stai zitto. Prendili. Olè. Vai contessa. Buon giorno. Uè. Ma lei è fortissima. Ma lei è proprio. Poi è partita di cattiveria. Cioè appena mi sali. Tac. Subita lanciata. Altro che tac. Eda. Lei non perde. tempo. Esatto. Io volevo vedere un pochettino il nostro personaggio. Se mi riesco a ricordare da dove si guarda. Trovate ho bisogno a cliccare qua sul nostro personaggio. Ah ok ok. E compare la personizzazione. Vette qua ci sono tutte le arme che si possono trovare. Addirittura le cose estetiche che. Cioè ragazzi. Cos'è il prestigio? Non lo so. Cioè come guadagniamo prestigio per poter sbloccare questi oggetti? Non l'ho capita io questa cosa ti dico la verità lo so. Ok però comunque ci sono tutte queste cose fantastiche che potremmo andare a variare. Potremmo. Inizio un bel po' i danni. Dopodiché pensavo ci potenziamo almeno un pochettino a Takeda e pure la Contessa. Perché non voglio lasciarli indietro poverini. No giustamente. Guarda la prossima. Ornetta regina dei Valrunes. Valrunes. Mamma mia ma sembra potentissima. Sta di qualcosa di vichingo. Quindi sembra bellissimo. Esatto. Guarda la Fatina. Guarda la Fatina. Boom. Altro forziere. 10 di oro. Grazie Fatina. Sempre gentile lei. Grazie grazie. Miniboss. Ema. Ti aiuto. Ti aiuto. Picca. E parte dopo due ore ma ci sono. Non ti preoccupare ci sono. Adesso stai facendo un danno a tocco. Perché mi son potenziata. Quindi forse. Brava. Brava. Forse cambia anche quello. Mi son potenziata. Continua. Sono più forte di te. Sono più forte di te. Qua non ce la possiamo fare. Guarda che però siamo giusti giusti. Ce la faccio. Clicca. Clicca veloce. Si spachillito. Mi si sta bloccando la mano. Clicca veloce. Dai 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 dai. L'ho fatto? Mamma mia. Che male. Zero. 0.3 secondi. Mamma mia. Ho avuto paura. Io ho avuto paura. Allora. Per un pelino non ce la facessimo. Potenziamo. Takeda. Ok. E potenziamo la contessa. Aspetta. Abbiamo la possibilità di critico. Picca. 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 Possiamo fare un sacco di critici. Stiamo facendo critici da 420. Guarda come stiamo massacrando questo boss. Vai 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 vai. No vabbè l'abbiamo massacrato. La Fatina invece che darci soldi questa volta ci aveva dato un potenziamento fortissimo. Bellissimo. Quindi non dà solo soldi. No. No. Esatto. Potenziamenti che servono appunto per riuscire a fare più danno. Siamo al decimo scenario. Quindi siamo vicinissimi al boss fortissimo. Io non credo che possiamo farlo ancora. Però abbiamo potenziato i nostri seguaci. Fereniki è potentissimo. Guardate come picchia fortissimo. Qualcuno mi aiuti. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Credici. Credici. Non rallentare. Sì ci credo. Non rallentare. Giardino incantato sbloccato. Bello questo. Bello. Mi piace. Aspetta. Aspetta. Bisogna di respirare un secondo. Riposiamoci un po'. Oh mamma mia che male. È faticoso sto gioco. Sì è davvero faticoso. Guarda ti fa concentrare in una maniera incredibile. È davvero davvero faticoso. La mia povera mano. Allora io volevo vedere un pochettino. Ma non è che ci hanno dato qualcosina di bellino? Ci serve questo prestigio. Nessuno ci dice come si fa il prestigio. Stiamo iniziando a fare un sacco di soldi però eh. Sì. Inizia a essere interessante. Infatti continua a cliccare come una pazza. Adesso abbiamo un boss soldaritus. Secondo me conviene potenziarci un pochettino i vari aiutanti. Anche secondo me. In modo tale da fare più soldi possibili durante le ore in cui non giochiamo. Così che torniamo se facciamo un secondo video. Fatina. Questo dipenderà da quanto vi piace. Se facciamo il secondo video magari abbiamo un sacco di soldi. Il clone attacca dieci volte al secondo. Guarda. Quindi io. Io. Io sono il clone no? No 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 no. Ho un'ombra che picca. È fortissimo. Spacchiamo tutti. Vai. Spacchiamo tutti. Spacchiamo tutti. Spacchiamo tutti. Purtroppo non siamo arrivati al boss. Sarebbe stato comodo. Sarebbe stato davvero davvero comodo. Infatti. Dicevo. Quindi potenziamoci un po'. Guarda cos'altro ho notato. Ok. Ok. Che se tu clicchi qua. Come quando cliccavo il mio personaggio. Vedi le loro cose. Ha la descrizione. Figlio di un antico samurai. Takeda lotta per l'onore. La giustizia e la grazia in tutti gli aspetti della vita. Siamo quindi ognuno di loro ha delle abilità che si possono sbloccare. Ma ci sono troppe cose. Sono tantissime. Guarda quante già ne sono. Lo so. Lo so. Lo so. Non lo sapevo questo. Non avevo notato che anche gli eroi si potessero. Come si dice. Potenziare così tanto. Infatti è carinissimo. Quindi allora. Voglio portare Takeda a livello 10. Vedi. Vedi. L'ho sbloccata. Sì. Sì. La prossima. È a livello 25. Quindi adesso. Ok. Takeda sarà fortissimo. Potenziamo la Contessa. Vediamo se riusciamo a portare anche lei a 10. Sbloccata la sua abilità che aumenta i danni dei tocchi del 5%. Ok. Consumata dal fuoco Contessa trascorre ogni momento della sua vita a imparare altri modi per maneggiare il fuoco. Sì. Bravissima a leggere le bio dei personaggi. Sì. Gentilissima. Bravissima. Infatti ci sapere che cos'è il prestigio. Che cosa sono quei punti torneo. Tutte quelle cose lì. Per capire un po'. Come funziona. Anche quella roba. Perché sono curiosissimo. Clicca velocissima. Che abbiamo il clone che picchi insieme a noi. Arriviamo al boss. Magari insieme al clone per 3 secondi ce la possiamo fare. Vai. Vado. Non lo so. Dai. No scusami. Oh mamma mia. Difficilissimo questo. Difficilissimo. Ma scusi eh ma. Guarda che bel fiocchetto giallo che ha poi. È bellino. Sì. L'ho vista. È molto elegante. Sei proprio preparato bene per la battaglia. Capito. Ha detto dai mi vesto bene visto che devo andare a combattere. Almeno. Già facciamo. Ne approfitto e vince lui. Vince lui. Posso provare a potenziarmi tantissimo. Mamma mia ma combattendo i due comunque facciamo dei soldi in una maniera incredibile. Siamo fortissimi. Sì. Abbiamo già quasi 7 mila. È il momento di potenziarci. Allora ma qua cosa mi suggerisce? Cioè ci sono altri eroi che combattono per noi? O semplicemente ci stai dicendo di potenziarli? No. Solo di potenziarli. Allora potenziamoci noi che non mi frega nulla dei nostri seguaci in questo momento. Ok. Livello 50 e quindi sblocca abilità. Attacco celestiale. Guarda. Ah e lo clicchi tu proprio? Sì. Allora. Lotta con boss. Attacco celestiale. Sbiii. Abbiamo distrutto. È stato il momento più entusiasmante della mia vita. Cioè mi è un colpo? Abbiamo distrutto. È stato bellissimo. Aiuto. Io non me l'aspettavo così forte. Bellissimo. Mi ha scioccato. Bellissimo. Perché io pensavo faccio un bel po' di danno ma non che sciottasse totalmente. E infatti se guardi hai un tempo di attesa di 10 minuti per poterla rifare perché è davvero troppo troppo forte. A saperlo l'avrei tenuto per il 15. Blocca l'abilità. Essenza del corno per Ornetta. Ok. Che vediamo un attimino che cos'è. Aumenti i danni di questo eroe del 150%. 50%. Tantissimo. Ornetta ormai spaccherà le facce. E poi mi sono accorto di una cosa. Dimmi. Che potevo fare questo. E c'erano altre persone. Non me ne ero ancora accorto. Cioè sì sì. Sì. Non mi ero accorto. No. Io ero convinta che lo sapessi e che stessi aspettando. No no. Comunque Mila la maneggiatrice di martelli a ruola e guardatela lì. Ma bellissima col martellone gigantesco. Secondo me Mila spacca tutto eh. Mi sembra davvero fortissima. Allora quindi adesso i nostri fanno 2000 danni che non è per niente male. Credo che lasciandoli lavorare da soli faranno un sacco di cose. Esatto. Aspetta. Aspetta ho il critico. Mi approfitto per buttare giù un altro boss. Giustamente dai. Non si spreca i giorni della patina. Questo gioco non riesco a fermarmi. Capisci? Eh sì sì. Ha questa cosa che non ti ci fa mai fermare da giocare. E continui. Rimarrei qua tutto il giorno. Davvero davvero. Continui a cliccare all'infinito le cose. Ok. Basta. 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 Fermi. Guarda. Poso tutto. Basta. Non ti aiuto neanche più. Esatto. Finito. 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 Dicevo. Ci fermiamo così. Abbiamo potenziato tantissimo i nostri vari seguaci eroi come li vogliamo chiamare. Quindi teoricamente lasciandoli fermi a combattere da soli ci produrranno tantissimo oro che potremo sfruttare per potenziarci. Quindi nel prossimo episodio se lo faremo nel caso andremo avanti. Secondo me davvero tantissimo e ci fermiamo così ragazzi. Beh ragazzi. Dice così. Se il giusto lasciateci un like. E se la prima volta che vi ho avuto il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao. E alla prossima. Ciao ciao. Ciao.